Ciao Rattilover, stai cercando un SUV spazioso e sicuro? Renault Cajar, 1.13 cilindrata, 160 cavalli, Ford Edition. Parliamo di un'auto aziendale immatricolata nel 2019, quindi certificata e garantita come tutte le nostre autovetture perché ha superato il test dei 100 punti di controllo dei nostri automotive expert. Alimentazione a benzina per un consumo di 5,9 litri ogni 100 km. Colore bianco ghiaccio, vetri posteriori e lunotto fumè a garantire privacy e protezione dai raggi solari. Frontale imponente e massiccio con mascherino con dettagli cromati che vengono anche ripresi dalla bordatura della finestratura e dalle barre al tetto, oltre che dalla parte bassa della fiancata. Fari LED Full Vision, cerchi in lega da 17 pollici e vediamo insieme le condizioni del battistrada, sono molto buone. Spaziosissimo il bagagliaio che parte da 472 litri e ha il doppio fondo. Abbattiamo i sedili con questa pratica leva e arriviamo a 1478 litri di capienza. Spaziosissimo e super luminoso l'abitacolo con interni chiari. I sedili sono in pelle e in tessuto, curatissima la texture e dotati di attacchi Isofix a entrambe le sedute esterne e posteriori. Tasca porta tutto dietro al sedile anteriore. Alla fine del tunnel centrale troviamo una doppia bocchetta dell'areazione dedicata ai passeggeri posteriori, una doppia presa USB e una presa da 12V, poco più di 30.000 km percorsi, il sistema di accensione start and stop keyless, bellissima e super curata è la plancia. Il volante dalle sterzate morbidissime è in pelle con cuciture a vista e dotato di numerosi tasti, tra cui il comando vocale e per la gestione delle telefonate. Bocchette dell'areazione con bordatura cromata e inferiormente incastonato al centro della plancia, troviamo un bellissimo display dal quale è possibile gestire tutto l'infotainment. Numerosissimi sono i sistemi di assistenza alla guida come l'avviso di superamento della carreggiata, possiamo accedere alla radio e alla navigazione e impostare la modalità di guida driving eco, se vogliamo essere attenti ai consumi. E possiamo anche connettere il nostro smartphone. Inferiormente troviamo il clima bizona gestibile da queste pratiche manopole, un vano porta oggetti molto profondo con presa da 12V e doppio ingresso USB, il cambio è automatico, il freno di stazionamento è elettrico e troviamo accanto al freno di stazionamento anche i comandi per il cruise control. Da questa manopola invece possiamo gestire le impostazioni di guida. Doppio porta bibite al centro del tunnel centrale e i sedili anteriori sono riscaldabili su tre regolazioni. Ulteriore vano porta oggetti sotto il bracciolo centrale e gli specchietti retrovisori si aprono e chiudono elettricamente. Non lasciarti scappare questo splendido SUV perfetto per famiglie che vogliono viaggiare con tanto spazio e in totale sicurezza. Corri subito sul nostro sito rattiauto.com dove potrai riservarlo con un solo clic per 7 giorni senza impegno con soli 100 euro, potrai riceverlo direttamente a casa tua con il nostro servizio di consegna a domicilio con igienizzazione e non dimenticare di seguirci su tutti i social e di cliccare sulla campanellina del nostro canale YouTube. Alla prossima auto!